Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Fall Guys Signori miei, episodio numero 6, 7, 8, 9, 10, no lo so, non mi ricordo sinceramente Comunque mi diventa giocare questo gioco, quindi per ora lo continuiamo a portare sul canale Se riesco vorrei anche riuscire a fare qualche live che forse già ho fatto o forse ancora non ho fatto, non lo so Ma vedremo col tempo, signori miei Detto questo, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per il supporto, per i commenti E per tutto quello che date a questa serie, diciamo, io spero vi piaccia sempre, sempre Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 Link e i link li trovate in descrizione praticamente per supportarmi E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo, trovate il link sempre in descrizione al video per poter farle Detto questo, partiamo con il video Ok signori, ci siamo Allora, il livello è il DC Heights L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, sappiamo che possiamo passare il turno, lo sappiamo Crediamo in noi stessi, quindi non demordiamo Perché passare il primo turno è facile Dobbiamo riuscirci, quantomeno nel primo livello lo dobbiamo passare facilmente Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, siamo in terza fila Possiamo farcela Si parte, si parte, si parte, si parte, veloce, 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 dai 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 Non facciamoci mettere i piedi in testa da nessuno, dai dai, non rotolare, tic tac Dai tic tac, dai 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 Bravo, bravo alla mia tic tac, bravo alla mia tic tac, dai dai Mamma mia che facciata terribile che ha dato la tic tac Ancora un'altra facciata, dai 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 Siamo messi un po' come a luce, siamo un po' in ritardo Se poi ci rotoliamo a terra, come dei pustelli con la cosa, non ci aiuta per niente Ai ai ai, gira di qua, gira di qua Gira di qua, gira di qua, bello così Ok, vai, 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 sali 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 Ok, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, raga Se facciamo bene questa parte Ci possiamo qualificare Se facciamo bene questa parte ci possiamo qualificare, raga Tutto sta nel far bene Dai 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 Noi no mi ha spinto Mannaggia lui Mannaggia lui signorini Mi hanno spinto a terra Mi hanno spinto a terra ma ce la facciamo Dai 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 Salta Ok 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 Dai 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 salta qui Perché di faccia Perché di faccia tic tac Dai dai così Ce lo siamo Ci siamo ci siamo ci siamo Già molti sono arrivati signori Già molti sono arrivati Ce lo possiamo fare Ce lo possiamo fare 23 24 25 23 Qualificati per Per una botta di 23 Signori miei Mamma mia che botta di fortuna Abbiamo passato il turno Questo è importante Questo è importante signori L'importante è la passata del turno Ci siamo riusciti Va bene così Va bene così Dai con l'altro livello Dai con l'altro livello Siamo rimasti in 35 Siamo rimasti in 35 Va bene va bene Vediamo qual è il prossimo livello signori Allora Slime Climb Ok Questo l'ho visto su youtube Ma non ci ho mai giocato Signori Quello dove prende Lo slime sale E non dobbiamo Non dobbiamo farci Né toccare dallo slime Né farci buttare a terra L'importante È arrivare al traguardo L'importante è arrivare al traguardo Signori miei Questo è l'importante Ok calma 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 Partiamo in prima fila Quindi abbiamo Dalla nostra parte Il favore diciamo Del Di evitare la confusione Quindi con calma Con calma Non facciamo cretinare Calma calma Ok Calma calma A noi interessa arrivare Raga A noi interessa Semplicemente arrivare Non ci interessa la posizione Non ci interessa la posizione Mamma che facciata Che mi ha dato sta palla Evita la Grande tic tac Grande tic tac Evita questa Evita questa Siamo messi bene Fermo 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 Tic tac Vai salta ora Fermo tic tac Fermo tic tac Vai salta No 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 Non dovevamo cascare lì Non dovevamo cascare lì Troppa confusione Troppa confusione Signori miei Troppa confusione Ce lo possiamo fare Ce lo possiamo fare Salta 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 No 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 Alzati tic tac Alzati Siamo morti Ma porca di una palletta Ambriaca Eravamo Eravamo in vantaggio Eravamo in vantaggio Mannaggia di una miseria Quit Quit Usciamo Eravamo in vantaggio E vabbè Prima e secondo round Eliminati al secondo Mamma mia Che brutta partita Che brutta partita Dai dai Facciamone un'altra Facciamone un'altra Ci siamo signori miei Il livello scelto Il si so Questo non l'abbiamo fatto Nemmeno E' quello delle piattaforme Che si muovono Ecco Questo già è più complicato Questo non l'ho mai fatto E speriamo di riuscire A arrivare al traguardo Raga Questa la vedo brutta Questa la vedo brutta Partiamo in terza fila Su quattro Quindi non siamo messi benissimo Vediamo se riusciamo però A andare A Dai 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 Con calma Con calma Con calma Con calma Dai così Dai così Ok 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 Alvina la piattaforma Andata Alvina la piattaforma Andata Grazie Dio Mi fai salire Su questa Mannaggia Sono tutti da quel lato Però riusciamo Dai 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 Ho sbagliato 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 Dai 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 zio Dai zio Dai zio Ancora non è arrivato nessuno Ancora non è arrivato nessuno Quindi ancora siamo in corsa Raga Ancora siamo in corsa Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Salta lì Salta lì Bravo Ora vai sul viola No 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 Guarda il blu Guarda il blu Guarda il blu Grande il blu Dai 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 Tenetemi il giallo Tenetemi il giallo No Questa caduta lì Non ci voleva No dai Il pomodoro che mi spawna davanti No però Il pomodoro che mi spawna davanti No porca miseria Dai 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 Il viola e il viola In due già sono arrivati Signorimi In due già sono arrivati Questa cosa non è per niente buona In due già sono arrivati Non ci posso chiedere Non ci posso chiedere Dai dai Quanto meno il primo livello Dobbiamo riuscire a superarlo Porca di una paletta ambriaca Dai 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 Ce la possiamo fare Zitti 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 dai 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 Che abbiamo superato questa parte Ok Questa parte è superata Questa parte è superata Dai 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 vai di qua Ok Vai di qua E non andiamo di qua Vai 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 così Perfetto Vai sul viola Dai 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 Ce la possiamo ancora fare Ce la possiamo ancora fare Porca di una miseria Porca di una miseria Dai 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 Ci siamo raga Ci siamo qualificati Mamma mia che partita sudata Questi due stanno a litigare Noi ci qualifichiamo belli tranquilli Va bene così signori miei Mamma mia che sudata Mamma mia che sudata Ce l'abbiamo fatta Aspettate mi è cascata il mio Ecco Ecco Inconveniente Aspettate il microfono Sta a posto Stiamo per recuperare Non vi preoccupate Ok Round over Signori miei Ci siamo qualificati Trofeo guadagnato Bello così Abbiamo guadagnato un trofeo Non so neanche cosa sia Stumblecrabble Da 51 Ne sono rimasti In 39 Prossimo livello Signori miei Prossimo livello Roll out No Roll out Non lo sopporto Roll out Se non sbaglio Una volta siamo passati Una volta siamo morti Fino a questo momento Sul roll out Mannaggia Dai Concentrati Calma Calma Dobbiamo semplicemente Rimanere all'impedi Dobbiamo semplicemente Rimanere sul 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 tubo girevole Sul tubo girevole Senza farci Senza preoccuparci Più di troppo Qui già c'è una Aia 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 Passa Passa Ok 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 Già due sono stati eliminati Buono così Già due sono stati eliminati Signori miei Già due sono stati eliminati Levati Dai 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 No 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 Calma 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 Passa qua Passa qua che ci spazia Passa qua che ci spazia Grande Grande la nostra tic tac Grande la nostra tic tac Dai passati qua Ok Calma 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 Ok Va bene così Va bene così Continuiamo ad andare Continuiamo ad andare in quella direzione Facciamo un lato e l'altro Inzette già sono stati eliminati Signori miei Inzette già sono stati eliminati E noi dobbiamo cambiare lato Ok Va bene cambia questo Ok 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 ci siamo però signori Ci siamo Siamo in corsa In nove sono stati eliminati In nove sono stati eliminati Signori E noi siamo ancora in partita Aia 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 Rischioso 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 Abbiamo fatto una cosa Rischiosissima signori Abbiamo fatto una cosa Rischiosissima Anche questa non è stata molto intelligente Dai 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 Ok 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 Quanto meno non possiamo cadere Se abbiamo la barriera Alle nostre spalle Non possiamo cascare In quindici Non manca solo un turno Qualificati E dai che passiamo il turno Bello così Bello così Qualificati Andiamo Secondo turno passato Dai 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 che sento l'odore di finale Dai che sento l'odore di finale Tre Solo tre gli eliminati Dai Ma come Solo tre gli eliminati Calma Vediamo qual è il prossimo livello Raga Next up is Quali Ci sono molti livelli che io ancora non ho mai fatto Vediamo cosa ci capita Fruit cut Fruit cut l'ho fatto Fruit cut l'ho fatto Vediamo cosa ne esce fuori Signori Sembra facile ma non lo è Sembra facile ma non lo è Però Concentrati Concentrati possiamo fare qualsiasi cosa Signori Calma 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 In 14 si qualificano Noi partiamo dalla seconda fila Siamo dalla seconda fila e si parte Veloci 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 Calma con l'inquadratura Che dobbiamo No 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 Mamma mia Ci sono già presi una fruttata in faccia Sì dai guarda che mi stanno rispondendo tutti davanti Ma dai Ma se non si fa così Dai 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 calma Dai calma dai calma Abbiamo preso una mela davanti Perché la mela al giorno toglie il medico di torno E toglie anche la qualificazione Dalle tue possibili devi passare il turno Dai 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 che stiamo andando bene Dai che stiamo andando bene Dai 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 Questa la vedo bene Questa la vedo bene signori miei Dai 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 Ok l'arancia Ok la susina Alla fragola Alla banana Mamma mia che banana Che abbiamo preso in faccia Dai dai Ok il melone Il melone è pesante signori miei Il melone Il melone è pesante C'è una banana che sta volando Che la vedo brutta Un'arancia Dai dai In 10 sono arrivati Raga 11 Il traguardo è lì 11 Nooo In 13 C'è l'ultimo Nooo E' andata raga ma porca Di una paletta ambriaca Niente signori miei Eliminati Eliminati al terzo turno Niente Partita Partite Partite Sfortunate oggi signori Partite sfortunate Detto questo però Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao